Benvenuti in questo nuovo video della Vanilla Prima che inizi il video ragazzi come al solito vi dite lasciare un mi piace e superare i 7000 mi piace ragazzi Perché abbiamo messo come paletto per ogni episodio i 7000 mi piace e secondo me ce la possiamo fare perché ce la stiamo facendo ultimamente E siete bravi Prima che inizi però il video vero e proprio vi voglio dire anche un paio di cose Voi direte Marce ma sei monotono, dici sempre le stesse cose No, volevo assolutamente ringraziarvi per come stai andando nell'ultimo periodo della Vanilla Perché forse a voi conta poco saperlo perché comunque guardate il mio video e siete contenti comunque di vedere il mio video credo Però per me vedere che la Vanilla è una delle serie di punta sul canale è una cosa che mi fa venire i brividi Per il semplice fatto che fino a due anni fa era un sogno perché io portavo la Vanilla e non andava bene, non era apprezzata Anche forse per il fatto che io comunque ero un builder di merda fino a due anni fa Non che ora sia così bravo però diciamo che sono migliorato tanto nel tempo, ho imparato delle tecniche Che comunque mi hanno permesso di diventare un pochino più bravo rispetto a come ero magari un paio di anni fa E con ciò vi ringrazio Comunque non dilunghiamoci troppo ragazzi perché oggi dobbiamo fare cose veramente importanti Allora qua devo lasciare ancora aperto perché forse ragazzi è una sorpresina per voi per il prossimo episodio Ma oggi ragazzi è arrivato il momento di dare una casa a questo poveretto qua Che mamma mia è sulle magliette Se venite a Romics mi raccomando comprate la maglietta e dovete dirmi quando la prendete Hashtag Ruggero Cerchiamo un hashtag, ditemelo a voi nei commenti un hashtag Tipo Ruggero Boss qualcosa del genere E fatemi i cartelloni Ruggero Boss Ruggero Boss Ruggero Boss Allora ho immaginato una bella base per Ruggero una bella stalla Ho guardato un paio di video su Youtube Perché comunque è anche bene informarsi Però diciamo che mi sono preparato un mio design in testa Non l'ho provato perché ho detto no non lo provo il design in testa Lo provo con l'oro in diretta Lo facciamo qua perché qui è abbastanza spoglio Vorrei farci qualcosa di interessante Quindi partiamo tipo da una base di qua Ok Allora qui mi sono preparato un botto di materiali Praticamente tutta roba che voglio dire c'è Allora cosa voglio fare? Voglio fare una sorta di cosa che fa così per voi Tipo così e così Con un doppio tetto E ci sta un botto Allora proviamo a vedere come che viene Uno, due, tre e quattro Lasciamo tre da ogni parte Quindi uno, due, tre Facciamo quattro Due, tre e quattro Poi quello lo sistemo Poi qui lasciamo un cinque e cinque interno Uno, due, tre, quattro e cinque E qua ripartiamo con un'altra volta Uno, due, tre E facciamo tutta sta cosa qua Due, tre, quattro e cinque No era di quattro Due, tre Beh comunque di cinque è come dovrebbe venire Adesso vi faccio vedere quanto dovrebbe essere la lunghezza Così più o meno ci rendiamo conto Facciamo uno, due, tre, quattro Cinque Sei, sette, otto Nove Dieci e undici Facciamo sempre le cose un pochino dispari Che mi piace di più Non deve essere tanto grande ragazzi Perché sennò poi diventa una cosa troppo esagerata Ora farò tutti i lati E vediamo un attimino come potrebbe essere il risultato Facendo quello che voglio fare appunto Per prima cosa ragazzi Mi sono reso conto che Ce l'ha tagliato il pezzo sotto Meno male che me ne sono reso conto in tempo Per prima cosa dobbiamo mettere appunto Le scale di stone brick in questa maniera Dobbiamo fare tipo una cosa del genere E lo facciamo anche dall'altra parte Ok dobbiamo farlo anche da questa parte qua Quindi partiamo così Saliamo Finché non arriviamo appunto Dall'altra parte Purtroppo qui non ho niente Vabbè a sto punto userei il legno Che è la cosa più semplice da prendere Ok quindi si fa una cosa del genere Si fa così E si fa così Per fortuna Rimane pari Che bello Che fortuna Raga non me ne ero accorto Che venisse pari Raga Sono un coglione Guardate un po' che cosa ho combinato Questo doveva essere uno più sopra E si Teoricamente non dovrebbe succedere niente Però 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 Succede qualcosa Ovvero che Guardate un po' cosa succede adesso Che questo qua Era troppo basso Ok Questo era troppo basso Qui succede un casino adesso Perché questo Doveva essere un pochino più in là Ok Qua succede una cosa del genere Lo so che pesa ragazzi Però purtroppo è così Purtroppo è così Allora ragazzi Piano piano Prende forma Ciò che voglio fare Ci vorrà del tempo Io sto registrando già da 25 minuti Non è poco Non è neanche tantissimo Non è neanche poco Allora Come deve essere Deve essere appunto Una cosa fatta come vedete Così e così Con una cosa in alto Un pochino più grande Dove possiamo andare noi Voglio iniziare a fare Off camera questa parte Perché devo capire Se è carina A me piace Come sta venendo Poi ci saranno tutte le decorazioni Eccetera eccetera Con l'acqua Poi volevo fare tipo Un mini mulinetto Fatto che secondo me È abbastanza figo Però è da vedere un attimino Come farlo Mi piace Ci penso io a finire Questo pezzo qua Perché se no è monotono Mentre metto le scale A meno che volete Che io mi metto lì E faccio così Se ce la faccio a farlo Allora ragazzi La struttura Direi che mi piace Ci sta nel complesso Di quello che stiamo facendo Mi piace tantissimo Anzi più che tanto Mi piace tantissimo E devo dire Che adesso c'è Da redarla appunto Da mettere tutte le varie cose C'è un pochino Di questo Cosa qui Perché ci sta Ragazzi Adesso vi spiego Anche il perché Prendiamone un pochino Mi serve un po' Di sto normale Magari quella fatta così Quella di slab Vediamo se riusciamo Vediamo se riusciamo A prenderne un po' Quante ne abbiamo Direi che bastano Io qui farei una cosa Del genere Ok Metterei queste qui In basso Ok Poi qua sopra Direi di fare una cosa Del genere E mettere una cosa Del genere Qua ci mettiamo Una finestrella Qua non si può mettere Niente Sfortunatamente Però se ci metto Uno slab Non me lo mette Posso mettere solo Lo slab Appunto Di stone brick E questa è una cosa Che un po' Mi fa girare le palle Direi che mi fa girare Abbastanza le palle Perché secondo me A sto punto Noi possiamo fare Una cosa del genere Questi slab Che abbiamo usato qua Li usiamo un pochino Più bassi Ok Li usiamo No Quelli di stone brick Di stone brick Eccoli qua Abbiamo 4 Perfetto Li usiamo Un pochino più bassi Vediamo un attimo Se sta meglio Direi assolutamente Di sì Mi piace molto di più E qua Usiamo esattamente Dov'è che sono Questi qua No 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 Mannaggia Devo farne altri Allora Non ne ho abbastanza Non ne ho abbastanza Però Spruce ne ha Anche quindi Se io faccio Magari Delle scale Così Queste sono tutte Ragazzi Da pensare Tranquillamente Perché poi Comunque qua È tutto da vedere Ok Se io invece Però di mettere Ste cose qua Ci faccio Una cosa del genere Ovvero Una cosa Tipo così Guardate un po' Tata 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 Una cosa del genere Fatemi riprendere le scale Che ne avevo esattamente 4 Che è quelle che mi servivano Facciamo una cosa del genere Boom Ok qua ci possiamo mettere Nel centro Un Un vetro Anche A dire il vero Possiamo metterlo su tutti i lati Oppure si fa semplicemente Una cosa del genere Che comunque ci sta tanto mi piace tanto sapete una cosa del genere e potremmo addirittura fare una cosa del genere potremmo fare una cosa del genere ok dove qua in mezzo ci mettiamo dell'erba non abbiamo il piccone con silk touch questo potrebbe essere un problema però se io ci butto il suo un pochino di erba sia qua che qua quando dovrebbe crescere appunto ci mettiamo le trapdoor che ci abbiamo esattamente qua devo andare a dormire devo andare a dormire possiamo fare una cosa del genere ok qui non possiamo metterlo qui ci possiamo mettere esattamente una scala di questo qui al conto anzi no qua ci sta una scala di legno anche spruce al contrario mi piace tantissimo come design mi fa impazzire qua ci mettiamo due pot qua il vetro sapete che vetro dovrei avere da qualche parte proprio qui in giro nelle ceste facciamo una cosa del genere proviamo a vedere come sta abbiamo otto pezzi non male direi che non male però forse quello marrone è quello che ci azzeccava un pochino di più proviamo a vedere un attimino perché comunque ragazzi ci sta lo stesso provare no raga mi è venuta un'idea mi è venuta un'idea della vita forse mi è venuta l'idea della vita forse vediamo un po' se facendo così sta meglio questo qui sotto non si attacca no è vero che non è da vedere un attimino che cosa si può mettere qua qua si può fare una cosa del genere qui si può fare una cosa del genere ecco raga così è molto più bello però forse fatto di legno ancora meglio questo votatelo nei commenti provo a fare tutte le parti e vediamo un attimino che cosa ne viene fuori magari viene fuori una cosa carina e sinceramente sono contento di come sta venendo dai sono contento allora ragazzi questo è più o meno la facciata come dovrebbe essere qui ho provato a farla con il legno e qui ho provato a tenerla con la stone sinceramente ragazzi non saprei decidere ok non saprei decidere perché da questa parte c'è più linearità e poi ci sono quelle due lì sopra che smorzano un pochino però da questa parte sinceramente mi piace di più effettivamente il vetro giallo fatto così non mi fa impazzire ragazzi infatti lo voglio cambiare di marrone o di un altro colore anche il vetro normale sinceramente mi piace un botto lì adesso io ho fatto un'entrata per come poi appunto sarà il dentro della roba qua ci mettiamo un po' di roba non so i calderoni quelle cagate lì per fare appunto la beveratoio però diciamo che non mi fa non mi fa impazzire così mi preferisco da questa parte qui adesso faremo la stessa cosa da tutte queste parti però non lo so perché sto ideando una cosa in mente che vediamo un po' se mi viene allora direi che comunque a livello di colori ci siamo abbiamo usato due tre legni diversi addirittura perché considerate che c'è lo spruce lo hack wood e anche il dark oak per quella roba lì direi che adesso voglio prendere un attimo il dark oak e voglio vedere se c'è da fare qualche particolare con questa roba qui ok perché comunque questa roba qui ci sta un botto io pensavo di fare una cosa del genere no perché guardate un po' quanto ci sta bene secondo me è una cosa che già ci sta molto molto bene però è tutto da vedere ragazzuoli ho finito allora ho finito di fare le cose basi purtroppo comunque qua per il dietro non avevo idee su cosa fare qua perché comunque avevo finito l'oiello sì lo posso mettere uno qua e uno qua però il già ah no già non ne abbiamo perché c'era nella cesta lì quindi andiamo subito a farlo non ci avevo fatto caso devo fare un pochino di trappor qua per fortuna è già cresciuto tutto cioè è cresciuto in men che non si dita che non si dita eh capite quanto sto messo male quanto posso essere stanco in questo momento comunque facciamole tutte di trapdoor ne abbiamo 27 mi sono procurato delle vines subito è già notte presumo porca misera è già notte mannaggia comunque qua si fa così qua ci ho messo sopra queste cose qui mi piace fare una cosa del genere andiamo subitissimo a dormire ragazzi perché sennò poi è nuca sin allora andiamo a dormire che poi finiamo i dettagli dopo mi servono dei secchi d'acqua e mi avete detto che purtroppo la shulker box gialla non me minecraft ha buggato e non me l'ha droppata nel senso me l'ha droppata ma non me l'ha presa nell'inventario quindi abbiamo perso purtroppo la shulker box gialla con tutti i secchi credo che fosse quella gialla quindi provate a immaginare che cosa abbiamo perso non mi ricordo manco cosa ci fosse comunque vediamo se qua ho qualcosa qui non ho niente 25 di diamante quelle litra qui non ho niente i secchi dove sono ci sono più i secchi non ci sono più i secchi ma perché perché allora qua non c'è assolutamente nulla che ci potrebbe interessare vero no sto provando a vedere se c'è qualche materiale ma assolutamente non c'è niente non c'è proprio niente qua cos'è che abbiamo nell'inventario che ci potrebbe interessare qua niente 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 raga purtroppo è andata così oggi però ragazzi ci è venuta una stanza per ruggiero anzi è una reggia questa cosa questa è una reggia raga parliamoci chiaro è davvero una reggia è veramente bellissima mi piace tantissimo stiamo iniziando a decorare la nostra vanilla in maniera decente se posso allora qui abbiamo qualche calderone ne faccio almeno un po ne abbiamo fatti tre ne voglio mettere oddio ne potrei mettere tipo fammi vedere tipo uno qua due qua così qua ci mettiamo l'acqua qua ci possiamo arredare con una cesta aspettate un attimo qui abbiamo questa qua da togliere e qua abbiamo preso tutto non siamo riusciti a prendere tutto però io vorrei la cesta bomber mi fai avere la cesta due secondi no le ceste ok ce l'ho qua allora una cesta la voglio mettere tipo qui e una cesta la voglio mettere tipo qua non so perché mi piace arredare con le ceste pure ragazzi ditemi che so stupido ma a me piace a me piace allora con questi 22 cose di qua lo so che li sto sprecando per fare i secchi ne avrò una decina però fa niente ragazzi non mi interessa qua ci mettiamo i due abbeveratoi che comunque sono giusti per regia o gerino almeno non mi sputi più in faccia e ragazzi qui all'ingresso non voglio mettere niente se non un fence gate che però non il fence gate non ho non voglio farlo di oak fence forse ragazzi sapete mi pare che sia una cosa del genere il fence gate no era il contrario il fence gate ok quindi facciamo così ne facciamo così ok ne abbiamo uno dovrebbe bastare uno per il lama diciamo così lo voglio lasciare proprio aperto voglio lasciarlo proprio aperto ok mi piace il dentro è abbastanza carino lo arrederò off camera ragazzi perché comunque a noi ci interessa il fuori per adesso voglio mettere un paio di vines in giro perché comunque deve essere una cosa abbastanza vissuta no tipo qua mi piace fare una cosa del genere qua pure ma magari più che va verso l'alto ok giochiamocela anche con i cespugli raga i cespugli sono molto belli da da mettere in giro ok mi piacciono tantissimo a me peraltro facciamo una cosa del genere qua si può mettere anche in questo caso una cosa del genere ci sta qua sta mi piace un botto qui invece ne mettiamo una qua questa qui scenderà tutta verso il giù ragazzi bellissima quando si può mettere quando si può mettere però passi e scende poi piano piano ragazzi riusciamo a far tutte le cose che vogliamo fare e anche qua qua se la metto su tutti i lati ok mi piace vediamo un attimo se qua possiamo mettere altri cespuglietti questo che non mi piace qui possiamo mettere una cosa del genere e qua ci mettiamo anche la solita cosa con il legno ecco mettiamone un po messi in giro potremmo mettere come abbiamo fatto la sì con le rotaie però possiamo mettere anche delle cosine fatte mi piace mi piace mi piace tantissimo ok direi che comunque abbiamo finito sto registrando sì perché mi stavo dimenticando questa sarà la casa del nostro fantastico e fantastiche rimo anzi direi ruggiero quindi andiamo nella lead e ci portiamo ruggiero dentro perché ruggi finalmente ti portiamo via da quello skill da quella concretely bruttissima che veramente faceva letteralmente cagare direi faceva veramente cagare oh la le lead ce le ho qua dentro eccole qua le lead perfetto dobbiamo ancora cibarci ragazzi quanto cibo sprecato oggi non ho sprecato mai mamma mia ok allora mettiamo questo qui e riusciamo a fare entrare il buon ruggi dentro ruggi vieni qua con me allora facciamo cose del genere ok andiamo andiamo ruggi vieni ruggi ciao ruggi mamma mia quanto quanto sei carico ruggi da 1 a 20 25 sei carico 25 mamma anche lui sta rispondendo allora portiamolo dentro ragazzi portiamolo dentro vieni ruggi vieni non so se ci entri qua sai sì c'è entrato perfetto io però qua ti metto una fence lo stesso così meno io ti metto qua legato ok e poi ti slego dopo fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace c'è da dire che là sopra mi sono dimenticato di mettere la stessa cosa che ho fatto qui si possono effettivamente aggiungere essenzialmente aggiungere anche altri dettagli tipo il dentro ragazzi se ci si può mettere un foto di ste cose tipo fatte così ok tipo una cosa del genere ok che può essere molto carino magari anche qualche alberello non sarebbe non gradito ecco mettiamola diamo un attimino se in queste ceste c'è qualcosa gli acacia sapling gli acacia sapling sarebbero abbastanza tirati in questo panorama che abbiamo fatto perché noi ce l'abbiamo un pochino tutto invernale quindi non ce lo vedo tantissimo l'acacia sapling però si potrebbe vedere anche qui abbiamo qualcosa non abbiamo niente invece qui abbiamo qualcosa non abbiamo niente qui 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 diamanti c'è tutto c'è un po' di roba ma non abbiamo appunto il bon meal bon meal purtroppo c'è tutto nelle ceste sotto oddio possiamo andare a prenderlo ragazzi effettivamente cioè sta cosa non l'avevo neanche considerata andiamo qua devo finire ragazzi lo so non mi linciate però mi è venuto in mente un nuovo coso da fare che mi piace molto di più no non torno no è vero che l'ho buttato tutto raga l'ho buttato tutto l'avevo fatto tutto in bon block mannaggia mannaggia e vabbè ragazzi vabbè dai sto punto oh è tornato giù ciao bomber l'unica cosa che aggiungerei prima di finire il video è mettere un calderone all'interno oh ciao rugero vuoi cercare di uscire ma non puoi mi dispiace bomber lo so che tu vuoi andare fuori però non puoi bomber ma ti ho messo da bere bomber ti ho messo da bere non fare il cattivo non fare il cattivone che qua già hai fai il cattivo sempre ok allora qua ragazzi dobbiamo finalmente aprire un'altra parte ok io l'aprirei da 4 si l'aprirei bella da 4 e qua ci farei una bella cosa del genere che poi qua un pochino rimane sparso eccetera eccetera anche qua in zona metterei un pochino di cose fatte così ok vediamo un pochino anche il dietro il dietro è un pochino da sistemare magari qualche alberello non sarebbe male però purtroppo sapling adesso non è ora come ora questa cosa qui è da tirare giù se vi ricordate era una vecchia cosa che facemmo però sti cazzi sti cazzi guardate un po' come nel complesso questa ragazzi è la reggia di ruggiero è una sorta di stalletta mi piace tantissimo spero piaccia anche a voi perché comunque è l'importante che piaccia a voi non deve piacere solo a me e niente ragazzi per questo video è tutto ci tengo tantissimo a ringraziarvi ancora come all'inizio da marcio è tutto lasciate un like bella grazie a tutti